La Casba è un tesoro inestimabile, è un contenitore straordinario di tradizioni e di storia sia dal punto di vista urbanistico che dal punto di vista architettonico, ma lo è anche dal punto di vista sociologico. Questo luogo è stato abitato da persone colte, da persone che celebravano dei riti religiosi, da persone che curavano l'arte. Qui c'è una fornace, qui si realizzava la ceramica ancora prima che arrivasse Aito. Mazzara del Vallo è stata anche una piccola capitale da questo punto di vista. Oggi Mazzara del Vallo con la Casba scopre una ricchezza inestimabile dal punto di vista economico legato al turismo. Abbiamo creato una entità straordinaria che attrae curiosità, ma anche storici, che attrae turisti per caso, ma anche persone che adesso dicono vado a Mazzara del Vallo perché vale un viaggio. Credo che questo antico complesso monumentale adesso prenda una forma particolare che sarà ancora più importante nel momento in cui apriremo anche questo edificio che è già pronto e che è davanti a noi e che conterrà altre due ali della biblioteca comunale e poi ci sarà una biblioteca multimediale nell'ultimo piano. Qui abbiamo trovato degli scavi straordinari, la dimostrazione di come Mazzara del Vallo sia unica in gran parte d'Europa perché qui è possibile toccare con mano il passaggio dalla cosiddetta dominazione musulmana all'avvento normanno cristiano. Questi scavi hanno tirato fuori la storia dei musulmani e sulle mura musulmane sono state costruite le architetture normanne. Ci sono anche dei piccoli esempi di pittura murale, forse di affreschi, c'è anche un piccolo cimitero, c'è una fornace importante che dimostra appunto come ci sia stata qui una sorta di attività anche da questo punto di vista e poi è un bel luogo, un luogo di eventi aperto a tutti, stasera stesso c'è della musica gradevole ci sono tante persone che facendo una passeggiata nella Casba avranno la possibilità liberamente e gratuitamente di entrare in questo spazio, di utilizzare i nostri salotti, di incontrarsi con le persone e perché no allacciare nuove amicizie e creare nuove ambizioni.